Il Martinismo e l'Ordine Martinista di Francesco Brunelli L'Ordine dei Cavalieri Massoni eletti Cohen dell'Universo Martinès de Pesquelli era un massone riconosciuto come tale, anche se si ignora quando fu accolto nella Fraternità. Probabilmente lo era per via sanguigna, la trasmissione iniziatica non avviene sempre come si crede. Egli infatti era in possesso di una patente massonica ereditaria concessa a suo padre da Carlo Edoardo Stewart nel 1738, con la quale si autorizzava l'intestatario e i suoi legittimi discendenti a costituire massoni e ad aprire templi alla gloria del grande architetto dell'universo. In pratica, Martinès, con questa patente, poteva iniziare da solo, senza cioè il concorso di altri fratelli, come è nella prassima assonica attuale. Questa patente, prodotta davanti alla gran loggia di Francia, fu riconosciuta valida. Poiché la vita e soprattutto le origini di Martinès scompaiono nella nebulosità del tempo, non sappiamo se egli fu il reale fondatore dell'ordine che propagandava o se egli agiva agli ordini di qualche suo maestro rimasto occulto. I maligni dicono che agiva per conto della casa Stewart, i benevoli dicono per conto di maestri rimasti sconosciuti. Egli stesso accenna ai suoi maestri, che restano malgrado ciò avvolti nel più grande mistero. L'ordine da lui fondato, pur poggiando su basi massoniche, in realtà era un ordine sacerdotale con una sua dottrina, una sua liturgia, che voleva riecheggiare il vero culto dato da Dio stesso. Ed i membri che ne facevano parte dovevano necessariamente accettare una regola per poter compiere i riti stabiliti. Lo stesso nome Kohen è un'adattazione del termine ebraico Kohanim con il quale si designavano i membri della casta sacerdotale costituita da Salomone per assicurare il servizio divino nel Tempio. Questi discendevano direttamente da Ronne ed erano certamente in possesso di una tradizione segreta ed orale. Pesquali afferma che questa casta sarebbe esistita anche prima del regno di Salomone e prima ancora di Mosè. Martínez inizia a propagandare il suo ordine, secondo alcuni, verso il 1754, nel Mezzogiorno della Francia, secondo altri, verso il 1758. Vediamo in rapida successione, per amore di completezza, gli sviluppi organizzativi. Dal 1758 raccoglie aderenti nelle logge di Marsiglia, Avignone, Montpellier, Narbona, Fuat e Tolosa. Nel 1760, a Fuat, all'interno della loggia Josué, fonda il capitolo Il Tempio Kohen. Nel 1761, a Bordeaux, stabilisce la loggia madre dell'ordine con il nome di La Française Lui et Coussos ed ottiene il riconoscimento nel 1765. Nel 1767, nell'equinozio di primavera, il 21 marzo, stabilisce a Parigi il Tribunale Sovrano dell'Ordine nominando Bécond de la Chevalerie, suo sostituto universale. In tutto nel periodo di maggior fioritura si contarono circa 12 templi, di cui uno a Paule-Prince, nell'isola di San Domingo. Lasciamo a questo punto la storia per esaminare la struttura dell'ordine. Direvo subito che le liste dei gradi Kohen fornite dai differenti autori non concordano tutte tra di loro. Esse presentavano tuttavia alcune varianti che non sembrano essere di fondamentale importanza. Vediamo appresso un duplice elenco ricordando che gli statuti dell'Ordine del 1767 ai loro articoli 12 stabiliscono così la gerarchia. I gradi della massoneria di San Giovanni, o gradi blu, erano identici ai gradi blu della massoneria universale e la loro presenza dava all'ordine l'apparenza di un rito massonico. Il grado contrassegnato con l'uno fra parentesi, ossia quello di maestro particolare, trova discordi gli autori sulla sua collocazione. In genere, si tende a porla a cavallo tra i gradi simbolici e quelli della classe del portico ed è un grado in cui viene celebrata la fedeltà dei fratelli all'ordine e in cui vengono puniti i traditori. I gradi della classe del portico cominciavano ad introdurre il neofita nel pieno della dottrina di Martinez e la traducevano in una forma massonica. Particolare importanza veniva attribuita alla spiegazione dei simboli ivi impiegati. Essi quindi, pur conservando un aspetto massonico, preparavano, fornendo gli elementi base interpretativi, alla rivelazione della dottrina segreta. I gradi della classe del tempio, di cui diremmo più avanti, introducevano i candidati in pieno esoterismo martinista. In essi, invece di essere iniziati, si veniva ordinati. L'ultimo grado, quello della classe segreta, L'ultimo grado, quello della classe segreta, trasportava sul piano pratico, teurgico, la teoria appresa in precedenza. I, S puntato, I puntato, che alcuni vogliono interpretare come le iniziali di superiori incogniti, erano i sovrani giudici membri del Tribunale Sovrano dell'Ordine, tutti rosa croce. E cioè, In queste note panoramiche non ci sembra opportuno aggiungere altro, riservandoci di pubblicare per esteso un nostro studio sull'Ordine. Riprendiamo ora la storia al punto in cui l'abbiamo lasciata. Nel 1772 Martinez si imbarca per San Domingo e nel 1774 muore. Questi due anni sono assai fattivi per l'Ordine in quanto il maestro completa le istruzioni che via via aveva redatto, senza tuttavia dar loro una veste definitiva. A succedergli come sovrano universale fu Cagnot de l'Ester, che muore dopo pochi anni, il 19 dicembre del 1779. A questi succede Sebastiano de la Scasas, che tuttavia nel 1780 consiglia ed invita gli eletti Cohen a chiudere i loro templi e a consegnare gli archivi ai filaliti. L'Ordine, che già si era cominciato a dissolvere quasi subito dopo la morte di Martinez, inizia un declino precipitoso. Nel 1776 il Tempio di La Rochelle ritorna all'obbedienza della Gran Loggia di Francia, ben presto seguito da quelli di Liborne e Marsiglia. Nel 1780, come abbiamo detto, il sovrano rispondeva da Bologna a molti Cohen, che gli chiedevano di interessarsi maggiormente dell'Ordine, che ciascuno doveva saper bene ciò che faceva, chi usciva dall'Ordine si privava dei vantaggi della cooperazione simpatica dell'organizzazione. Quanto agli Orienti, che non volevano più continuare i loro lavori, non avevano che consegnare tutto a Savalette de Lange e questo consiglio fu seguito da molti. Nel 1807, Bacon de la Chevalerie menziona in una lettera le iniziali di un altro sovrano universale ed accenna all'esistenza di Cohen. Sappiamo che Foucault e de Poncarré nel 1809 consegnarono gli archivi recuperati dalla dissoluzione della biblioteca dei Filaleti a Destiny, anch'esso eletto Cohen che li conservò fino al 1868. Tuttavia il discorso sugli archivi Cohen non implica necessariamente l'esistenza di una filiazione diretta. Van Routenberg nel 1935 scriveva infine in fatto di filiazione diretta esisterebbero attualmente in Francia dei Rosa Croce e dei Capitoli Cohen funzionanti ancora? Per quanto incredibile ciò possa apparire me lo è stato assicurato. In effetti esisterebbero degli eredi spirituali di Martinez che ancora oggi praticano le sue regole di vita e si esercitano nelle cerimonie teurgiche sforzandosi di ottenere dalle entità spirituali maggiori i segni della loro riconciliazione con il Creatore. Vedremo in proseguo l'ordine nei tempi moderni. grazie a tutti.